Artmap.tv Siamo in compagnia di Maurizio Faraoni della Galleria Ugo Ferranti di Roma. Come nasce questa galleria? Questa è una storica galleria romana che nasce nel 1974 con il signor Ugo Ferranti ed è una delle pochissime realtà storiche rimaste a Roma per quanto riguarda il contemporaneo. È una galleria che negli anni si è fatta conoscere per aver portato in Italia, specialmente a Roma, in quelli che erano i primissimi anni dell'arte minimalista e concettuale. Questa galleria ha iniziato questa sua avventura nell'arte con quegli artisti, facendo dei nomi Richard Tattol, Daniel Bioren, Sol Le Witt, artisti che in Italia ancora non avevano mai esposti e che comunque erano dei giovanissimi e che tutt'oggi sono delle glorie internazionali dell'arte contemporanea. La galleria negli anni ha continuato sempre a mantenere questo suo filone di ricerca improntato sempre sul minimal concettuale e poi all'inizio degli anni Ottanta ha tirato fuori, per usare così un termine, quella che è la cosiddetta scuola di San Lorenzo, cioè gli artisti romani, che facendo capo al pastificio Cerere come luogo di ricerca e di aggregazione in cui avevano gli studi, Ugo Ferranti è stato colui che ha fatto la prima mostra ai ragazzi di San Lorenzo, Gianni Dessì, Bruno Ceccobelli, Domenico Bianchi, Giuseppe Gallo. La galleria continua ad andare avanti, nonostante la scomparsa del suo fondatore, è avvenuta nel 2007 con me, che porto avanti quello che era un po' il vecchio sistema della galleria e anche avendo delle nuove possibilità di lavorare con nuovi artisti, con dei giovani artisti, anche perché comunque continuare a lavorare con tutti quegli artisti che erano della galleria Ferranti negli anni 70, ormai sarebbe quasi impossibile, perché sono tutti artisti da museo e quant'altro, insomma. E in occasione di Roma Contemporary presentate una personale di Luca Di Maggio, se ne vuole parlare? Sì, in questa occasione noi abbiamo fatto un progetto speciale con Kaspersky Lab, che è sponsor, partner della Fiera di Roma, con la quale abbiamo deciso di fare uno stand monografico sul Luca Di Maggio, in quanto Kaspersky Lab segue già Luca Di Maggio da diverso tempo in altri eventi artistici italiani e quindi è stata una collaborazione che è nata con loro e noi come galleria abbiamo appoggiato questa idea. Vuole parlarci del lavoro di questo artista, del messaggio che vuole comunicare attraverso le sue opere? Sì, nel senso che Luca Di Maggio è un giovanissimo artista milanese, che ha 34 anni, tornato da poco a vivere in Italia, ha vissuto i suoi ultimi anni a Tel Aviv, si è formato a Vienna e quindi è stato per molti anni a contatto con una cultura mitteleuropea, che in un certo senso non traspare subito da una prima vista dei suoi lavori, perché tutte le persone che in questi giorni entravano qui in stand, sono subito Abbaschia, Abbaschia e quant'altro. No, non è un fenomeno tipicamente americano, tantomeno un fenomeno tipicamente di una street art inglese, ma invece nei suoi lavori comunque c'è una sorta di pseudo-storicismo, se così vogliamo chiamarlo, di quelli che sono i maestri storici dell'arte del Novecento, legati comunque ad una cultura nord-europea. Il tutto comunque rivisto attraverso il suo occhio, attraverso la sua creatività, utilizzando quelle che poi sono queste carte, delle semplici carte da pacco, oppure dei lavori fatti su buste, che hanno avuto già una loro vita, che sono delle carte che già hanno avuto una loro vita, sulle quali lui imprime la sua idea, il suo concetto di arte, ci sono degli elementi, dei segni iconografici che si trovano un po' in tutti i suoi lavori, quindi il teschio, il diamante, queste piccole barchette in carta che si vedono, sono sempre un po' dei segni che noi ritroviamo in tutto ciò che è il suo operato. Luca, molto fiero di aver partecipato a questo progetto con Kaspersky, perché comunque è un ottimo mezzo di comunicazione, anche l'idea di avere uno stand monografico in una fiera, visto che una fiera invece è un fenomeno tipicamente commerciale, dove tutte le gallerie vanno un po' a raccontare quello che è il loro operato che si fa durante l'anno in galleria, nel senso che in uno stand si trova sempre un po' di tutto, cioè tutto quello che noi rappresentiamo. E per lui invece è stata come se fosse una piccola mostra, questa di aver partecipato a Roma Contemporary, una sua piccola personale all'interno di questi padiglioni. E come seleziona gli artisti per la sua galleria? Sempre con un vecchio metodo, nel senso che siamo noi stessi galleristi che andiamo a visitare gli studi degli artisti, oppure sono loro stessi che vengono a proporre il loro lavoro. Rapporti interpersonali, nel senso che uno si innamora prima della persona e poi vai a vedere il suo lavoro. Cioè l'artista gli dà sempre qualcosa umanamente per la quale il suo lavoro viene sempre un po' in secondo piano. Perlomeno parlo dalla mia esperienza e dall'insegnamento di Ugo Ferranti, insomma che per 40 anni ha fatto questo lavoro. Veramente è stata una persona che ha avuto sempre un occhio molto attento e un cuore anche molto attento verso gli artisti. Prima tante cene, prima tanti colloqui, prima tanti racconti di vita e poi si passava sempre a andiamo a vedere che cosa fai. Grazie. A voi. Grazie.